Pochi numeri, pochi numeri stasera, però il Bologna è a quota 34 a 13 partite dalla fine. Questo significa che è salvo al 95%. Allora, nessuno, nessuno poteva prevedere un Bologna a quota 34 a 13, se vogliamo anche dire che ha 12 punti di vantaggio sulla terza ultima, perché sono 11 più il confronto diretto. Nessuno, poi salterà fuori qualcuno io sì l'avevo detta mia sorella, vabbè, vabbè, 4 super ottimisti, nessuno. Allora dobbiamo farci una domanda, ma come mai questo Bologna ha 34 punti? Beh, è molto semplice, perché il Bologna ha trovato evidentemente l'allenatore giusto, che ha rasserenato prima, si è fatto apprezzare, ha rifondato uno spogliatoio e ha fatto quasi tutte, non tutte, quasi tutte scelte giuste. Sicuramente ha inciso anche l'avvento di Baraldi, finalmente un uomo di calcio nella società Bologna 1909 e poi i giocatori, perché quasi tutti danno il meglio di sé, medesimi. Facciamo un esempio, chi poteva pensare che l'Anna riproposto fra il caraccapriccio generale potesse giocare un campionato buono come quello che sta facendo. Miei personalissimi voti per la partita di ieri. Viviano 6,5, Raggi 7, Portanova 7, da Nazionale. Volete sorridere? Sorridete pure, da Nazionale. Sarà mica inferiore alle grottaglie a Cannavaro. Britos 6,5, Lanna 6,5, Modesto 6,5, molti gli hanno dato 6, guardate a quello che ha fatto a maggio. Boucher 6,5, Mudingai probabilmente il migliore di tutti, 7, Guana 6,5, Adahilton 6,5, Zalaceta 7, forse la miglior partita da quando è a Bologna. Gimenez 6,5, Abito Romeo 6, 6, più, vabbè dai. Vota la prestazione del Bologna 6,5, vota la partita 6, più. Ora, io credo che guardando al presente, perché tutti sappiamo che arrivare a tredicesimi o sedicesimi per via dei soldi che poi uno si metterà in cassa, in tasca, non è la stessa cosa. Vino a parlare del futuro, vino a cominciare a guardare al futuro perché c'è il problema dei prestiti, c'è il problema dei rinnovi. Ma se il Bologna prenderà molti soldi, molti soldi, parecchi soldi per i diritti televisivi, quanti di questi soldi saranno investiti? Perché è inutile se no parlare di un piano industriale se non hai soldi sufficienti per investire. Perché? Perché su una rosa di 22, io ne confermerei 13 o 14. A quel punto ne bastano 5, bastano 5 acquisti mirati, però non puoi sempre pretendere di prendere dei giocatori in prestito, bastano 5 acquisti mirati, che non costino naturalmente delle cifre da capociro, per mettere in piedi una squadra che se quest'anno farà, dico 42 punti, così vado a naso, ecco, perché non pensare che ne possa fare 43 l'anno prossimo, quando forse finalmente non dovrai fare in estate i discorsi legati a una spasmodica salvezza. Ecco, io questa sera non ho altro da aggiungere perché è un momento di grande gaudio, è la serata della beatificazione e allora beatifichiamo.